La nostra maglia è diversa, certo, tutte le maglie sono speciali, ma la nostra è davvero unica. È una vita, è un racconto, è la storia di tutti noi, di grida, di abbracci, di colori che riconosceresti tra mille, dell'odore del campo, di voce alla radio, di attese senza fiato. La nostra maglia non è solo una maglia, è una parte di noi. La nostra maglia, una seconda pelle.